Cosa è successo? Che tutto un colpo, niente, ci siamo ritrovati senza acqua, senza più avviso, senza niente, qua siamo 25 famiglie, senza acqua, praticamente senza nessun avviso, niente, non ci siamo neanche fatti fare un po' visite, niente, è venuto il sindaco, guarda il sindaco non c'è niente, è candidato a sindaco, lo bravo, poi è venuto con te, da che lui ha detto che siamo in regola, è venuto in marinara, comunque noi siamo in regola, perché il contratto l'abbiamo fatto, sono loro, loro che non ci hanno mai mandato la bolletta, comunque queste case non sono nostre, sono comunali. E l'area anche per fare le sue responsabilità, chi sa quando avremo l'acqua, ma sono bambini, ci sono disabili, c'è gente che non sta bene, l'acqua è bene e comune, adesso io per legge non si può staccare l'acqua.